Ecco, e adesso che l'avete un po' ripassata tutta velocemente, sempre occhi chiusi, inventate un'illustrazione che voi fareste, io so che siete già molto bravi come illustratori, ma facciamo finta che siate ancora più bravi, che possiate fare tutto quello che volete a colore bianco e nero, con l'olio, con la tempera, col pastello, col computer, e possiate fare un'illustrazione che secondo voi potrebbe stare sulla copertina di questo libro.